14 opere d'arte realizzate da iscritti e diplomati alle Accademie di Belle Arti Pugliesi saranno esposte nel corso della mostra Premio Arpa Mare 2023 che si terrà fino al 14 luglio all'interno della Direzione Generale di Arpa Puglia. I giovani selezionati hanno partecipato al concorso per arti visive Prospettiva Blu, un mare d'arte in Puglia. Ad essere premiati in occasione delle manifestazioni realizzate per la Giornata Mondiale degli Oceani 2023 Laura Paladini, Vanessa Ciaula, Michela Fiandese, Marina Caggiula, Emily D'Agostino, Chuen Juan, Caterina Maiullari, Sara Rizzo, Valentina Stella, Melanie Cucci, Michael Nacci, Michela Pizzo, William Preyer e Andrea Monticelli. Le opere a tecnica mista con materiali organici, acrilico, carte e stampe giapponesi hanno riguardato il mare, le coste pugliesi a maggiore interesse naturalistico, l'ecosistema marino, senza dimenticare il problema sul consumo di plastica e con riferimenti letterari come al romanzo Il Vecchio e il Mare di Hemingway. Il premio Arpa Mare, giunto alla terza edizione, ha tra gli obiettivi la valorizzazione dell'ambiente e del territorio. La scelta di investire sulla cultura ripaga sempre, dichiarato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. L'entusiasmo dei ragazzi, la bellezza delle loro opere, valutate da una giuria di grande competenza, ci spingono a lavorare con sempre maggiore impegno nella direzione della integrazione tra obiettivi legati alla conoscenza scientifica e nuovi stimoli culturali che rafforzino la sensibilità verso la prevenzione e la tutela dell'ambiente. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 con ingresso gratuito.